Signori, buongiorno. Room, film voto 8, miglior vincitrice, sì, miglior vincitrice, miglior attrice, film Oscar, film Oscar, sì, cavolo di recensione, insomma, miglior attrice, ha vinto l'Oscar, il BAFTA, il Golden Globe, è un bel film, voto 8, a me non sembra che sia chissà che cosa, mi sembra un po' spinto come voto, certo è da vedere però, tutto lì.